Oggi siamo ad Agordo, un po' più su, e raggiungiamo la stia dei Framonte. Sto gli alberi abbiamo Lanier, San Sebastiano, Moiazza, Sura, Casara Framonte, dobbiamo seguire, e su, 552. Che caldo, ragazzi, eh? Siamo a 1.5, 1.75, dobbiamo arrivare a 2.3, 2.4, 2.4, mamma mia. Forsella del campo, siamo arrivati alla Forsella. Guarda che fatica, sto alla stia del Framonte. In cima alla storia del Framonte, che era nata bestiale. 2002, siamo, bello, è stata tanto dura, tanto dura, sono partita a 1.000 metri. Siamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. L'ultima riparlata per tornare alla forcella e dopo giù, verso la macchina. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.